Buongiornissimo ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Appena terminato l'anticipo della giornata di Serie A, terminata la partita fra Udinese e Roma 1-0 in favore dell'Udinese. Prima sorpresa di giornata, ormai siamo un po' abituati anche a queste sorprese, almeno per come vedo le partite io, nella prima proprio partita della giornata. E anche in questo caso effettivamente si può parlare di sorpresa. Udinese che batte la Roma convincendo secondo me. Ora, io ve l'avevo detto anche quando avevo fatto il video sui consigli per le schedine, attenzione all'Udinese perché potrebbe avere degli stimoli importanti con l'annatore nuovo. Attenzione alla Roma perché comunque farà un po' di turnover per la Champions, avrà la testa la Champions e la Roma abbiamo visto che ogni tanto perde proprio in campionato per questo motivo, per dedicarsi un pochino di più alla Champions. Cosa apprezzabile però a lungo andare ti fa perdere tanti tanti punti. E la stessa cosa è caduta oggi. L'Udinese non ha rubato assolutamente niente a nessuno. Al primo tempo non ha fatto male la Roma, secondo me. Sicuramente ha avuto il palino del gioco. L'Udinese però stava già iniziando a far vedere il fatto che nelle ripartenze poteva fare male. Aveva poi le pulsette da davanti che erano giocatori molto veloci e quindi di conseguenza in velocità con Fofana inserirsi potevano creare qualche pericolo. Così è stato alla fine, così è stato. Nel secondo tempo invece l'Udinese ha fatto meglio della Roma. L'Udinese ha meritato di andare in vantaggio. C'era anche il 2-0 poi annullato per un tocco di mano di Pussetto. Giusto, giusto, assolutamente. Gran gol di De Paul che appunto consegna i tre punti all'Udinese. La Roma sinceramente mi ha un po' deluso. Mi ha un po' deluso non tanto per la prestazione perché come detto il palino del gioco secondo me l'ha avuto, in particolare la Roma. Mi ha deluso perché? Perché dopo il gol del 1-0 di De Paul non c'è stata reazione. Sono entrati pezzi grossi, è entrato Dzeko, è entrato Hunder. Non è cambiato niente, non è cambiato niente. Cioè Dzeko è entrato molto svogliato secondo me. Hunder qualcosina ha creato ma anche lui inconcludente un po' come è stato Kluivert secondo me. Poi Zagnolo si è fatto male ai pellegrini purtroppo e di conseguenza è entrato tra i tre quello che ha fatto leggermente meglio. Però in generale mi hanno deluso in tanti. Mi ha deluso Cristante ma non è una novità. In fase difensiva mi ha deluso perché non puoi prendere quel gol e anche il secondo gol, quello poi annullato, era un'ingenuità della difesa. Quindi devono cercare di migliorare assolutamente in fase difensiva, cosa che si era vista per esempio già in Champions con il CSKA e mi era piaciuta di più. A sto giro non mi ha assolutamente convinto. L'impressione che mi dà la Roma è quella di dipendere troppo da alcuni giocatori. Chi intendo in particolare? Secondo me tre giocatori sono attualmente fondamentali negli schemi della Roma in campionato. E sono Manolas, De Rossi e Pellegrini. Al momento sono fondamentali. Dzeko non lo metto fra i fondamentali in campionato perché effettivamente non sta dando un contributo così eccelso. Lo metterai più in Champions. Però in campionato secondo me questi tre sono fondamentali. È chiaro che quando vanno, almeno per il momento attuale di forma, è chiaro che quando vanno a mancare due giocatori importantissimi come De Rossi e Manolas per infortunio o comunque scelta tecnica, è chiaro che la vai a pagare. Secondo me la Roma con De Rossi e la Roma senza De Rossi è una Roma totalmente diversa. Non lo scopriamo oggi e ha un problema chiaramente dipendere così tanto da un giocatore di 34-35 anni. Ed è un problema che hanno tante squadre perché comunque la Juventus non è messa meglio perché la difesa con Chiellini e la difesa senza Chiellini è un'altra cosa. E la Juventus con Chiellini e senza Chiellini è un'altra cosa. La stessa cosa secondo me è la Roma. La Roma deve cercare di aggiustare qualcosa, deve aggiustare i difensori centrali, deve aggiustare secondo me anche la mediana. Come modulo secondo me è ottimo questo qua. Però in mediana Cristante io continuo a dire che non è un mediano. Cristante è un giocatore che lì fa fatica. È un giocatore sprecato. Ora, se Pellegrini è il titolare assolutamente inamovibile dietro la punta, mettilo magari, non lo so, in panchina? Metti in panchina, metti qualcun altro lì? Ora, non so chi altro abbia di alternative alla Roma proprio in quel ruolo di mediano. Però, allora, vendere Strootman è stata una cavolata perché era un giocatore che poteva farti quel ruolo lì. Di conseguenza è chiaro che poi la vai a pagare quando ti mancano le pedine fondamentali. E oggi è stato così. Oggi la Roma ha pagato e come hai detto, ma ha deluso la non relazione, il non cercare assolutamente il gol. Dzeko non ha fatto una corsa, credo, non ha corso durante la partita. Ha giocato a 20-25 minuti e non ha fatto una corsa. Di testa è stato impreciso, ma così come tantissimi altri, Sharaoui era aperto molto bene e poi non ha avuto la reazione. Manca il centrocampo, non hanno avuto la reazione sia a Cristanti, che magari a quel punto poteva spingersi un po' più in avanti. Non mi sono piaciuti i Kolarov, mi aspettava una spinta superiore. Guardate, il migliore secondo me è stato Sant'Onel, che è tutto a dire. Detto questo ragazzi, il video è finito, io vi invito a mettere mi piace se volete altri video post partita, a scrivermi nei commenti cosa ne hai pensato appunto della partita appena terminata fra Udinese e Roma e vi invito infine ad iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video, attualità calcistica, fantacalcio e qualsiasi cosa accada nel mondo del calcio. Detto questo, vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Grazie a tutti.